ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale eccoci qui oggi con garden simulator un titolo di gnomi diciamo così tra virgolette di gnomi dunque vediamo un attimino di cosa parla il titolo beh già dal titolo come detto visto e considerato che è un garden simulator sicuramente si tratterà di roba di giardino insomma robe fai che spettacolari simulazioni e chi più ne ha più ne metta insomma ragazzi vediamo un attimino se ce la caviamo con questo titolo dunque è in inglese quindi vedrò un attimino anche di capirci qualcosina ma detto questo ragazzi andiamo subito con un play salva la partita 1 vediamo un attimino se riusciamo a capirci cose e io spero di sì ragazzi eh ora a prescindere da tutto ragazzi non ci saranno le musiche di sottofondo se no va a finire che mi ci becco il video per copyright e cercherò quantomeno di di evitare per l'appunto questa cosa qui andiamo avanti anche perché dal trailer che ho visto è roba di lanciare cose insomma di qualche cosa insomma ragazzi lo scopriamo insieme ci facciamo questo primo episodio in insieme e vediamo un attimino se riusciamo quantomeno ad arrivare a qualche parte quello che si deve fare quello che bisogna sistemare e così via spero che vogliate almeno vedere questo primo episodio anche perché ho riformattato il pc e ho installato il windows 11 sempre 64 bit e vediamo un attimino se riesco quanto meno a giocare con i titoli perché non tutti i vari tipi di giochi sono supportati per windows 11 il che significa magari con qualche gioco più recente che non è possibile quanto meno giocarci con il windows 11 ragazzi ne farò a meno perché purtroppo non posso tenere windows 11 e windows 10 perché se no altrimenti sarebbe una cosa veramente molto fastidiosa per il momento questo qui garden simulator anche come meetbuster funzionano su windows 11 vedrò anche di provare mafia 2 definitive edition se vi ricordate con joe adventures perché vorrei comunque sia continuare la serie sul canale quindi vediamo un attimino se è possibile giocare con mafia 2 definitive edition su windows 11 perché fino all'altro giorno che avevo registrato il video per windows 10 non c'erano problemi ora vediamo un attimino se sul windows 11 è supportato il titolo non c'entra niente che sia 64 bit o 32 bit il 64 bit è molto più avanzato del 32 bit e quindi la maggior parte dei giochi sul windows 10 partono senza problemi purché sia un sistema operativo come detto prima a 64 bit ma anche il windows 11 è a 64 bit vari tipi di giochi non sono supportati per il windows 11 detto questo ragazzi vediamo un attimino se va tutto perfettamente bene se no altrimenti dovrò scusi dica dovrà abbassare leggermente la grafica leggermente la grafica dunque abbiamo delle cose qui questo qui lo posso piazzarla vediamo un attimino innanzitutto ragazzi quello che dobbiamo fare perché se no altrimenti non si capisce niente a giorno ma scusate ma è casa nostra questa ma mi devo sistemare la casa a quanto pare sì abbiamo lo shop abbiamo lo store storage sì a quanto pare mi sa che mi devo sistemare oppela ah mi pagano aspetta ma mi pagano per davvero garden coin coins 37 ma a quanto pare sì eh ora non vorrei dire ma secondo me qui eh mi pagano anche un bel po ora ora se magari riesco quanto me scusi quanto meno a ripulirmi la zona ok abbiamo sbloccato un qualche cosa nello shop aspetta qui abbiamo bisogno delle forbici per tagliare questo cavo scusi ma signor gatto diga eh che cos'è comunque sì anche qui evidentemente dovrò acquistarmi delle forbici magari sì 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 a quanto pare sì dunque vediamo un attimino posso prendere questo sì e lo posso anche buttare qui perfetto vediamo un attimino se riesco a prendere qualche altra cosa sì 61 garden coins qui sicuramente possiamo depositare delle cose dunque avrei bisogno di una forbice da quel che vedo anzi aspettate noi adesso abbiamo bisogno di una pala però avete capito possiamo anche piantare la roba hai capito abbiamo sbloccato uno gnomo di nome fred bene questi questi qui secondo me sapete che cosa dovrebbe essere più o meno come house flipper soltanto che però non vedo le forbici e ma aspetta aspetta ah ok perfetto quindi è così che noi andiamo a bloccare la roba 61 di 50 è ok perfetto ottimo vediamo un attimino 61 però però noi qui che cos'è che abbiamo show skills ah hai capito abbiamo anche le skills per poter credo la probabilità di poter andare avanti però però come detto non abbiamo delle forbici noi quanto pare no giusto mi sembra strana come cosa vediamo se riesco a prendere qualche altro rifiuto in modo da poter oppela da potermi fare un altro po di garden coins a posto garbage only ok ma scusate ma noi non possiamo uscire di casa possiamo soltanto andare a dormire e questo potrebbe essere già un'ottima cosa quanto costa questo per 5 questa qui è sblocca è bloccata questi qua anche però non abbiamo dell'altro giusto abbiamo soltanto roba da da piantare se vogliamo degli gnomi che roba che ci sta però è tutto sommato mi sa che delle forbici non ce ne sono com'è che faccio io ad andare avanti scusi perché non posso saltare fin qui eh no non posso saltare tranne se ah ok così facciamo anche le coccole al al gatto bene bene tranne se delle forbici non sono già in giro no io di qua non vedo niente di qua niente dunque vediamo un attimino cerchiamo di capire siamo credo alla giorno 3 madonna mia ammazza che brutto rumore che fanno sti galli madonna e che cos'è storage store item credo che forse quando ordino qualche cosa mi dovrebbe arrivare qui e io posso piazzarlo qui all'interno del magazzino barra stoccaggio però come detto non abbiamo niente madonna mia ammazza che rumore e ma la roba che io acquisto però dov'è che mi arriva madonna mia scusi ma dov'è che mi sta ma ma scusi ma 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 pensate ok abbiamo sbloccato dell'altro ah hai capito quindi io qui posso anche scavare ok dunque abbiamo sbloccato qualche altra cosa che cos'è che abbiamo sbloccato ah bene del del terriccio watering can watering can aspetta ah è uno di questo qua ok scusate no mo sono proprio curioso di sapere da dov'è che mi arriva sto pacco cioè voglio dire no ah eccolo lì scusi eh ma ma dico ma scusate ma vi pare normale una roba del genere che mi fate arrivare dei pacchi così e credo che forse magari possiamo acquistare anche dei semi eggplant eggplant aspetta un po eggplant seed giusto 4 però scusate ma io non riesco a capire quanti cavolo di soldi abbiamo totale 24 2 un giorno e tre giorni quindi un giorno per piantarle tre giorni per crescere credo di sì ragazzi e credo di sì comunque comunque da quello che ho capito noi facciamo soldi buttando la roba e cercando qua ma pensate ok perfetto e questo qui la oddio più 150 punti esperienza scusi eh ma dov'è che mi va così in fretta lei e che cos'è dunque vediamo un attimino che cos'è che dobbiamo fare abbiamo una mail eh sì new task for you scusate eh non per essere quello iper critico com'è che faccio a vedere la mia posta skill point allora aspetta una ah eccola qui perfetto dobbiamo pianta aspetta dobbiamo piantare insomma quindi se abbiamo un punto abilità florist lo possiamo utilizzare magari facciamo uno per volta salva ok abbiamo ancora dell'altra posta allora dobbiamo piantare tre di quella roba che mi è appena arrivata sì perché sono le eggplants e vediamo un attimino io direi di piantarle ad esempio già qui aspetta 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 perché qui abbiamo ancora dell'altra roba da gettare ottimo così almeno così aspetta mi faccio anche un altro po di denaro se voglio ah ok allora questa qui no aspetta la possiamo anche gettare a quanto pare sì vabbè dai comunque tutto sommato ci sta ci sta dunque vediamo un attimino questa roba qui la posso anche togliere sì dopo vado a gettare tutto ammazza proprio colattere cinesi eh aspetta ma non la butta ah sì ok mi dà più tre di coins sì ok è giusto scusi gatto ma se leva eh levati eh mia o che cos'è che ti strelli scusi eh se te passo in parte non per qualche cosa ma ammazza che tele cinesi cioè guarda qua la tele cinesi proprio ci fa un baffo sì almeno così ci facciamo un pochettino di garden points almeno diamo una mezza ripulita a casa no voi che dite tanto comunque sia io qui ci devo vivere no beh almeno credo poi non lo so se ci devo vivere o meno ma secondo me sì eh secondo me sì 98 ok dai per il momento anzi aspetta togli pure questo 101 aspetta che la tele cinesi non arriva però arriva qui eh no la tele cinesi aspetta ok grazie caro gentilissimo no aspetti eh eh togli qua metti qua a posto ottimo bisogna piantare queste quattro robe che io direi di piantare magari possiamo mettere una e quattro vediamo un attimino una due tre e quattro ora bisogna annaffiare giusto eh ma l'acqua dov'è che la prendo però ah eccolo qui è due ma non mi basta l'acqua a posto e aspetta e quattro plant flower allora aspetta abbiamo ah quindi dobbiamo fare sia giardinaggio che anche piante giardinaggio aspetta un attimo dunque 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 allora no perché sapete che cosa mog mogward sed margward aspetta margward è soltanto questo qui però quanto è che ne vuoi tre margo margward è questo qui quindi sono tre poi invece com'è che stiamo qua stiamo a posto non so nemmeno che cos'è che dovrei fare più eh oh dica scusi eh mi faccio arriva sto pacco va eccolo lì ammazza che cagliara ok dunque allora questi qua magari li possiamo piazzare anche di qua tac wow aspetta che roba ecco aspetta dove andate a finire mando sta se ne vuole come cazzo e dagli scusi ma scusate ma sì vabbè ragazzi non ci posso fare niente non ci posso fare niente quindi è bisogno anche annaffiarla giustamente che sennò però poi dice che ci vogliono ben tre giorni per far crescere dunque allora aspetta un ottimo questo 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 famone pure un altro ma tanto ormai già che ci siamo uno l'abbiamo messo qui uno lo piazziamo qua e un altro lo piazziamo qua riempi date da fare a posto scusi gatto eh non mi rovini il mio il mio giardino qua eh dunque se me ne vado a dormire che cos'è che succede giorno 4 e fin qua ci siamo è cresciuto qualche cosa scusi diga eh sì dai stanno crescendo e allora arriva da sto punto mi sa che dovrei attendere sì perché diceva tre giorni ora vediamo eh vediamo se è una cosa fattibile o meno ma mica ci vuole acqua sì ci vuole acqua e non lo sapevo cioè io pensavo di poter annaffiare soltanto una volta e basta e il gioco andava per sé e mi faceva tutto il resto scusate piantine eh scusate sperando che non mi muoiono dica riempi e stiamo a posto eh ritorniamo di nuovo a letto e vediamo un attimino se eh il gioco mi dice altro perché come detto non lo so se mi potrà dire altro bisogna riannaffiare ma è questo eh ma questo qua che faccio vabbè mettiamolo va tanto e due ce la facciamo e tre giusto giusto sì quindi diciamo che con uno di questo facciamo tre piante e tre sì infatti facciamo tre piantine anzi aspettate volete vedere che quella là è erba quindi bisogna anche pulire vuoi vedere che questa qui è erba sì infatti è erba quindi bisogna pulire aspetta togli questa nient'altro no sì eccola qui eh che c'è di più non c'è più niente ok possiamo ritornare a nanna eh non so quanto tempo eh richieda per crescere questa roba siamo al settimo giorno quindi fate voi fate voi questo qui bisogna annaffiare ah sono sì infatti sono le meranzane barra zucchine insomma siamo a due quelle là che abbiamo piantato qui verso sinistra sono già pronti per la raccolta perché mi ha fatto vedere che il che significa ah è quattro e quindi scusa dica vabbè a parte il fatto che abbiamo delle nuove skill point da poter assegnare al nostro omino eh dunque vediamo un attimino skill point io direi di amen watering va bene a posto ci sta eh dopodiché vediamo un attimino forse credo che posso andare avanti eh piantando delle cose eh però che cos'è che possiamo piantare tra l'altro ma noi qua nel magazzino non ho capito che cos'è che possiamo mettere qui nel magazzino dunque abbiamo delle cassette un pennello abbiamo soltanto questo qui però 46020 possiamo piantare il fungo e basta e niente più vabbè dica è arrivata apposta scusi dica prime roses quindi dobbiamo piantare 5 prime roses allora vediamo un attimino prime roses seed flower aspetta aspetta però garden extension 40 garden coin dunque allora vediamo un attimino cerchiamo di andare avanti anche perché sapete che cosa forse magari possiamo andare avanti sì d'accordo però possiamo tra virgolette anche cercare di vendere la roba che noi piantiamo perché secondo me potrebbe essere una cosa abbastanza buona credo di sì eh e 1 e 2 e 3 e che cavolo ok e 3 qua e 4 sì però non ho capito perché non avanza qua dunque allora economia allora quest un lock vabbè sbloccare quella roba là va bene d'accordo però il quest il quest dobbiamo piantare 5 prime roses però nell'economia dobbiamo small push però dobbiamo aumentare di 40 garden coins no non ho capito dunque economia vabbè sbloccaggio va bene d'accordo abbiamo capito che dobbiamo sbloccare robe owen the small push mower dunque vediamo un attimino aspetta un po allora ritorniamo di nuovo a dormire siamo al giorno 9 e vediamo un attimino di recuperare quello che è cresciuto di qua prima di tutto annaffiamo annaffia anche questo e stiamo a posto raccoglie raccoglie ah eccolo come che sale ok quindi dobbiamo arrivare a 40 va bene ottimo quindi bisogna aspetta che qua ci sta erbaccia maledetta che sta cresce come se non ci fosse un domani aspetta però arrivato a questo punto io ne posso piantare anche un pochettino di più di melanzane aspetta aspetta ora che mi ci viene in mente eccole qua ok nel frattempo io posso credo ritornare a dormire e il pacco mi dovrebbe arrivare dopo bene perfetto dai devo dire che è abbastanza simpatico come come gioco ma ancora mi deve arrivare il pacco ma mi scusi hanno eccole che è arrivato scusi biondo mi faccia arrivare il pacco su cioè com'è una volta di là una volta di là vabbè ok questa volta abbiamo ben sei semi posso piantare anche di qua questo aspetta perché questa qui la vado a buttare dopodiché aspetta un attimo no che cavolo fai dunque annaffia questo ok adesso ho capito in una botta sola ne posso fare anche due quindi ne posso annaffiare anche perché come potete ben notare il il cerchio tratteggiato è l'aria che riesce ad annaffiare quindi più è grande la tanica o la tanica che abbiamo ovvero l'innaffiatore che ho in mano più è ampia la zona di com'è che si chiama di di annaffiare di annaffiare ok andiamo a dormire cavolo mi si è addormentata la mano e te grido dunque vediamo un attimino qui abbiamo bisogno di mettere altri semi che è soltanto uno bene dopodiché aspetta riempi questo annaffia tutto ok sì fin quanto non sblocchiamo il l'annaffiatore più grande mi tocca sempre fare avanti e indietro ok sì per il momento è soltanto questo però mi accontento ragazzi e mi accontento ok vado a riempirlo un'altra volta siamo arrivati a livello 5 ottima cosa dunque toglie raccoglie raccoglie e ok mica ci sta dell'erba da recuperare no ma scusi ma lei proprio qui deve venire a mettersi ok ritorno a nanna almeno così riesco anche a far crescere quello che mi deve crescere naturalmente togli questa tutta qui vedete com'è il raggio se io mi metto al centro qui però consumo molta più acqua naturalmente che cosa vogliamo farci se io mi metto qui non annaffio ne una nell'altra perché il raggio di di annaffiare è molto più piccolo molto più ristretto riempi qua almeno così facciamo anche uno a posto uno due tre e quattro naturalmente aspettiamo anche che le altre mi crescano poi dopo ci salutiamo giorno 6 giorno 6 dunque vediamo un attimino che mica ci sta dell'erbaccia da recuperare si eccola qui butta tutto altre erbaccia no niente dunque iniziamo ad annaffiare di nuovo a a posto eh sì come detto ragazzi bisogna prendere il l'annaffiatore quello lì più grosso speriamo che poi dopo infine ci sarà anche un annaffiatoio automatico perché sennò così non si può andare avanti siamo arrivati anche a livello 6 ottimo così signori noi così ci facciamo i soldi a furia di vendere la roba noi ci facciamo soldi vediamo un attimino vediamo un attimino smart push mower eccolo qui questo smart push mower eccolo qui sì sì adesso ho capito che cos'è credo che dovrebbe essere una roba di togliere erba o non lo so non lo so comunque riempi qui da dove arriva il pacco a proprio da dietro casa addirittura era giusto era giusto e ma con questo che cos'è che ci faccio però a mi taglio l'erba e perché scusi a devo togliere l'erba da sulle coltivazioni che naturalmente non funziona sulle piante ma funziona soltanto se ci sta dell'erba scusate ma perché mi stanno dando dei punti a perché ci dovrebbe essere dell'erba in giro che io non riesco a vedere e in effetti ci sta dell'erba che io non riesco a vedere ut santo iddio e daje cioè ma come così spunta roba dal nulla cioè ma scusate ma io posso fare tutto sto giochetto fino a domani mattina scusi no questo qua è il gatto che si lamenta forse magari non vuole che gli rado al suolo l'erbetta sua preferita che ne so forse magari con st'erba qua se fa pure du vabbè ci siamo capiti ma non è una cosa facile però eh lasciate lasciatevelo dire non è per niente e mannaggia la miseria levati ma scusate ma esce così dal nulla la spazzatura e ho capito che bisogna rastrellare tutta la zona però vabbè però una volta che ho fatto che che succede scusi eh di che eh eh lo so lo so scusi scusi lo so il gatto non è d'accordo lo so eh lo so c'ha ragione c'ha ragione comunque comunque eh vediamo di ritornare a dormire in modo da far crescere le altre piantine e di aumentare anche di livello se no altrimenti non se ne fa niente vai vai inizia ad annaffiare qua aspetta però adesso che ci penso potevo piantarle anche un cicinino più vicine vabbè le proporzioni non sono un problema ma poi dopo ricresce l'erba sì mi sa che sta ricrescendo un attimino oh santo iddio ma che ho fatto mi sono distrutto le piante eh sì eh quello l'amo com'è che lo faccio a prendere ah ok mi sono distrutto le piante maledizione eggplant ok quindi bisogna piantare ancora dell'altra roba a posto bisogna piantare altro quattro piante di quelle il mushrooms e dovrebbe essere peperoni veg a roba vegetale adesso mushrooms e non saprei che cos'è questo mushrooms pepper ma noi possiamo anche andare a sbloccare le aree ah ok quindi possiamo anche ampliare il nostro giardino o meglio credo la nostra casa va bene comunque ragazzi vedo che sono andato così tanto per le lunghe ma arrivati a questo punto io direi di concludere qui qui questo primo episodio della serie di garden simulator mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate e mi raccomando vi invito a lasciare un like a commentare ad iscrivervi attivare la campanellina condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio ciao a tutti ragazzi